A volte mi viene fatta questa munizione, mi viene detto ma di cosa parli tu? Parli di cose così poco tangibili, così poco pratiche nella vita che tu forse non sai quali sono i veri problemi della vita. Il lavoro, il perdere il lavoro, i problemi di soldi, pagare le tasse, avere figli, non sapere dove lasciarli perché devo andare al lavoro, le separazioni, le cause giudiziarie, problemi con la propria famiglia, tradimenti vari, problemi di salute, di malattia. A questa domanda, a questa ammunizione quasi, come tutto, sorrido. Sorrido perché, come ho detto nel mio video precedente, vedo questo modo di vedere la vita come un modo unilaterale. La vita è questo, questo problema, questo problema, questo problema, questo problema, come una visione schematica delle cose. La vita è sofferenza, la vita è faticare per guadagnare, la vita è mettere da parte i soldi, la vita è non sprecare questi soldi, la vita è doversi rimboccare le maniche, la vita è fatica, la vita è qualcosa in cui la sofferenza permea ogni mia azione. Ma la mia domanda a questa affermazione, a queste affermazioni è Ma veramente, cos'è la vita? Cos'è la vita? Possiamo dire che dietro tutte queste, questa serie di vicissitudini che, per amor del cielo, ognuno di noi deve vivere, ognuno di noi vive la propria sofferenza personale. Ma dietro queste sofferenze personali possiamo, come sempre, avere almeno due modi di vedere le cose. Vederle in modo unilaterale, vederla come solo sofferenza da superare, in modo a testa china, a testa bassa, senza magari utilizzare il pensiero creativo per andare oltre. Oppure possiamo vederlo dal punto di vista che a me personalmente piace molto. Prendere quella situazione, guardarla, astrarsi, andare all'esterno di tutto questo, e guardare un po' dall'esterno quella situazione ferma, che ci blocca. e domandare che messaggio mi vuoi dare, perché sei venuto a trovarmi, perché disagio, perché problema, perché malattia, perché sei venuto da me. Che messaggio vuoi darmi? Perché se noi guardiamo la vita da un punto di vista lineare, dove la mente razionale, quella di superficie, vuole governare, vuole dirigere ogni nostro passo. Ed è la visione più comune, la visione verso cui ognuno di noi è stato educato. Quindi ognuno di noi nel mondo occidentale la conosce. È un modo, ripeto, unilaterale di vedere le cose. Non ci permette di guardare la situazione da altri punti di vista. E io spero che con questi miei documenti, le persone che le guardano, possano iniziare a domandarsi, ma se ci fosse un altro punto di vista? Se potessi io da solo, senza l'aiuto di nessuno, scardinare quei meccanismi che hanno creato quel problema all'esterno, al mio interno. Porsi la domanda, porre la domanda al problema. Perché sei venuto a trovarmi? E da questo nuovo punto di vista impariamo ad utilizzare la vita stessa come un qualcosa che può aiutarci a crescere. Perché ogni cosa ha un suo significato. Ma se noi continuiamo a vedere il mondo, se noi continuiamo a vedere la vita in modo superficiale, perché è un modo superficiale di vivere? Vedere i problemi solo come qualcosa di stupido, che non doveva succedere. E se invece quel problema vuole portarci proprio a prendere magari un'altra strada nella nostra vita? E se quel problema vuole dirci guarda che tu non stai seguendo la direzione della tua vita? E se il messaggio di quel disagio, di quella situazione che non riusciamo a risolvere fosse altro da quello che pensiamo, riusciremmo a vedere i problemi della vita, le crisi esistenziali, come il dono più grande che la vita stessa ci dona. Grazie.